Buonasera a tutti ragazzi da Pierpaolo Loriga il coordinatore regionale del Lazio per Motore Italia Allora questa è una precisazione che ritengo necessaria perché molte volte mi scrivete sotto i video mi chiedete informazioni su Motore Italia, su come inviare l'iscrizione al partito, su come contattare l'ingegnere o per domande generiche e io molte volte non vi rispondo, vi ho risposto dopo 5-6 giorni non perché voglio essere cafone, maleducato, semplicemente perché scusatemi ma non l'ho letto io molte volte lavoro dalle 5 di mattina fino a sera tardi quindi potete capire lo spazio che ho per leggere l'email per leggere i commenti sotto i video, per poter rispondere, è veramente molto ristretto e per questo vi chiedo scusa con questa comunicazione voglio darvi la mia email personale nel quale potete farmi qualsiasi domanda potete richiedermi il numero di telefono, potete inviarmi le iscrizioni a Motore Italia la mia email è baronevassallo, tutto attaccato, chiocciolalibero.it quindi baronevassallo, tutto attaccato, chiocciolalibero.it per qualsiasi richiesta, per qualsiasi chiarimento, per qualsiasi spedizione anche dell'iscrizione a Motore Italia vi prego di mandarmelo sulle email e magari non scriverlo sotto i video non perché mi dia fastidio, semplicemente perché potrei non rispondervi perché non la leggo semplicemente per questo allora, qualsiasi informazione relativa a Motore Italia, relativa alle iscrizioni, eccetera, eccetera potete scrivermi baronevassallo, chiocciolalibero.it e lì vi risponderò appena possibile a tutti quanti grazie ragazzi, sempre con Motore Italia, avanti!